La ditta Lamberti Vincenzo è un'azienda a conduzione familiare, da oltre 20 anni rivenditore di materiali e attrezzature per l'edilizia. Ditta Vincenzo Lamberti, via Giovanni Cesaro a Santa Lucia di Cava dei Tirreni. Sì, è stata una partenza equilibrata, dove insomma hanno impegnato anche Anatrella con un'occasione, con un tiro da fuori abbastanza insidioso. Però comunque è stato un buon approccio e sapevamo che era una partita che poi dovevamo affrontare nel modo giusto. L'abbiamo fatto, abbiamo trovato il primo gol e dopo il secondo, ecco con l'espulsione, chiaramente è stato tutto molto più in discesa. Abbiamo trovato spazi anche per chiuderla. Quindi tappa importante, ma c'è da continuare su questa strada perché il campionato è ancora lungo. Ho chiesto alla squadra di trasferta, ecco, di migliorare, perché comunque spesso ci ha visto insomma in difficoltà su vari campi e su varie condizioni, mentre oggi sono stati bravi a fare quello che poi stiamo cercando di fare in casa. Ecco, quattro gol alla Santa Maria, quattro gol alla San Cataldese, altro Ina e qui a Biancavilla. Tolta la partita col Giarre, la cavese di questo periodo segna, diverte e vince. Sì, al di là del divertirsi, poi dico, questo termine va sostituito con il piacere di attaccare e di giocare con questa mentalità. Non dimenticando che dobbiamo comunque rimanere sempre equilibrati e avere anche la capacità di riconquistare il pallone perché poi tutto passa attraverso lì. Dopo i risultati di oggi cresce la fiducia all'interno del gruppo sulla possibilità di salire più in avanti? Sì, chiaramente cresce ma non l'abbiamo mai persa e allo stesso tempo dico che è ancora presto per fare insomma delle valutazioni più definite, quindi dobbiamo pensare di settimana in settimana come abbiamo fatto quando qualche risultato non è stato favorevole.